Protesta agricola a Roma, trattori sul raccordo anulare e voce di Amadeus, lotta per dignità e giusto valore. Nella notte scorsa, Roma è stata testimone di una massiccia protesta agricola che ha portato circa 200 trattori a percorrere il grande raccordo anulare della città eterna. Organizzato dal Movimento Riscatto Agricolo, il corteo è stato un'azione di protesta mirata a sollevare le preoccupazioni e le richieste degli agricoltori italiani riguardo alle politiche agricole europee. Il presidio è partito tarda serata dal quartiere Nomentano, con i trattori che hanno attraversato i oltre 60 chilometri del raccordo anulare sotto la scorta delle forze dell'ordine. Questo atto simbolico ha attirato l'attenzione su una serie di questioni cruciali che riguardano il settore agricolo nazionale. Nel frattempo, sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo, il presentatore Amadeus ha letto una lettera degli agricoltori, esprimendo solidarietà e supporto alle loro richieste. Ha sottolineato la necessità di una legislazione chiara che garantisca una giusta distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare, assicurando che gli agricoltori ricevano una remunerazione adeguata per il loro duro lavoro. Nonostante le difficoltà nell'organizzazione della protesta, con diverse sigle e associazioni coinvolte, gli agricoltori hanno dimostrato unità nel perseguire il loro obiettivo comune. Anche se non sono saliti sul palco, la loro voce è stata udita attraverso le parole di Amadeus, il quale ha riconosciuto l'importanza di ascoltare e affrontare le loro preoccupazioni. La protesta non si è limitata al raccordo anulare. Durante la giornata, alcuni trattori hanno fatto ingresso nel centro storico di Roma, passando per luoghi iconici come il Colosseo e il Circo Massimo, accompagnati dalle forze dell'ordine. Questo gesto ha dimostrato la determinazione degli agricoltori nel far sentire la propria presenza e le proprie richieste anche nel cuore della capitale. Il ministro dell'Agricoltura, Lollo Brigida, ha visitato il presidio degli agricoltori sulla Via Nomentana, ringraziandoli per il loro impegno nel garantire la continuità del settore agricolo italiano. Ha promesso il suo impegno nel sostenere la categoria e ha invitato al dialogo per trovare soluzioni condivise. In conclusione, la protesta agricola a Roma ha messo in evidenza le sfide e le aspirazioni degli agricoltori italiani, richiamando l'attenzione sul bisogno di politiche agricole che garantiscano una retribuzione equa e un futuro sostenibile per il settore primario del paese. Grazie per aver seguito il nostro resoconto. Vi invitiamo a commentare e a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su altre notizie e sviluppi riguardanti questa importante vicenda.